Sono qua in casa in quei rarissimi momenti dove finalmente ho un po' di tempo per me stessa e non so se vi capita, mi piace guardarmi le foto del passato e grogiolarmi nei momenti scattati che solitamente sono momenti felici e ho fatto tre milioni di album nella mia panciona di sole. Io voglio dire a tutte le donne là fuori incinte godetevi la vostra pancia godetevela perché quello è un momento di beatitudine più totale è una cosa che veramente non so come dirvi, cioè a me manca tantissimo. Guardate qua, appena nata, sole. Auri e Tommy vestiti da medici appena fuori dalla sala parto. Erano emozionatissimi, guardate gli occhietti di Auri come era emozionata, bella lei amore mio. Niente, non so se sono gli ormoni ma sono veramente in un momento di totale nostalgia. Ma fa bene, fa bene al cuore ragazzi. Vi voglio bene.